Purtroppo per le politiche sbagliate in questi anni l'ospedale di Piedimonte ha subito carenze e soprattutto è caduto in una poca considerazione. Il nuovo piano azientale del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese e i rischi di un declassamento di un ospedale che rappresenta la struttura sanitaria più importante dell'Alto Casertano al centro di un incontro voluto dal sindaco di Piedimonte Matese Vittorio Cividillo e dalle numerose sigle sindacali si è tenuto nell'aula consigliare al fine di trovare possibili soluzioni al problema. A margine dei lavori in merito abbiamo sentito le due parti che si sono confrontate ed ecco che cosa ci hanno detto. Sindaco allora nuovo atto aziendale, nuovi problemi, che cosa si prevede, che cosa si può fare innanzitutto? Anzitutto quantomeno non ridurre l'offerta e quindi non peggiorare l'attuale situazione, quindi noi combatteremo come abbiamo appena comunicato a tutti i presenti affinché si ripristini almeno la situazione attuale per poi programmare in prospettiva un miglioramento netto dei servizi che sono carenti e come è noto a tutti. Ci saranno ulteriori incontri? Ci saranno ulteriori incontri anche perché oggi abbiamo comunicato che noi come amministrazione abbiamo interlocuito con il direttore generale dell'ASL che ci ha garantito che l'unità di chirurgia rimarrà come è oggi, quindi non verrà declassata e quindi questo è il primo obiettivo e poi dovremo intervenire anche sulla dialisi, sulla cardiologia dove c'è stato un peggioramento nell'atto aziendale che noi vogliamo assolutamente evitare. Allora lei ha moderato l'incontro di stamattina, qual è stata la sua impressione e che cosa si può fare? Dico in qualche modo la stessa domanda del sindaco. È stato importante perché c'è stata una forte sinergia, una grande risposta di tutti i sindacati e di tutti i lavoratori dell'ospedale che hanno la grandissima volontà di lavorare insieme all'amministrazione per lasciare assolutamente l'ospedale e non depotenziarlo ma addirittura di migliorare, se c'è la possibilità, i servizi attualmente disponibili. Allora l'incontro di stamattina sicuramente è stato molto importante, che cosa chiedete esattamente? Fondamentalmente la visibilità perché purtroppo per le politiche sbagliate in questi anni l'ospedale di Piedimonta ha subito carenze e soprattutto è caduto in una poca considerazione, stando già al fatto che per esempio l'ospedale non ha una dirigenza, non esiste un direttore sanitario, sono quelli che arrivano giustamente, fanno i referenti o i facenti funzioni che giustamente hanno delle prospettive limitate, quindi giustamente abbiamo bisogno di visibilità e di nel concreto risolvere i problemi dei cittadini che riferiscono all'ospedale perché il nostro territorio non è un territorio comune agli altri, è un territorio che fa parte della comunità montana, è un territorio montano che include paesi che hanno l'unico sbocco sanitario è quello di Piedimonte che sia l'ospedale o il territorio, quindi sicuramente un penenziamento di tutti i servizi, un incremento del rapporto e dell'affinità e del percorso ospedale-territorio che è fondamentale perché anche nel PRN c'è la sottolineatura del fatto che il territorio è fondamentale per la risposta ai bisogni assistenziali, quindi se questo è il punto cruciale di una legge nazionale non vedo perché l'azienda deve sottovalutare questo aspetto a Piedimonte.